salve traders qua un'altra volta eric muñoz in lion bull academy prima di tutto buon anno nuovo abbiamo già cominciato il primo di gennaio già come vedrete sono già pronto qua nel computer a cominciare il mio nuovo cammino e volevo oggi parlarvi un po della trading floor va bene cosa sarà cosa vorrò fare cosa cosa costerà e se veramente mi interessa o no così volevo un po farvelo vedere dai cominciamo velocemente a spiegare che ho fatto un pdf piccolino questo è il pdf che ho fatto la trading floor è il nuovo luogo che sto preparando per il nostro lion bull academy la nostra comunità penso che sia carino e vi spiego un po che cosa esagerato allora cosa si farà nella trading floor adesso ve lo spiego si si potrà vedere tutta l'operativa che faccio io in diretta bene i giorni che io opero in diretta li potrete vedere ci sarà tanto materiale da condiviso per tutti ci saranno libri indicatori di tutto tutto il materiale che possa fare pdf che faccio io libri che faccio io anche tutto tra lì condiviso per tutti ci sarà un chat privato in telegram che sarà soltanto quando facciamo le dirette lì si possono fare le domande velocemente se avete qualche domanda certo e parlare direttamente con me nel momento della diretta parliamo tutti insieme la sosprezione e sarà di soltanto 3 euro al mese si pagherà attraverso di paypal e il prezzo di un caffè al mese più o meno perciò non penso sia ho voluto fare il meno possibile per farlo il più economico possibile però che sia anche di aiuto per me perché non solamente per voi aiuterà penso a vedere come opero come cerco le compagnie cosa leggo tutto penso vi interesserà veramente vederlo adesso andiamo un po vedere come si suddivide perché come sappiate abbiamo tante lingue perciò devo devo trovare il modo di fare tutti i contenti allora lunedì faremo l'apertura europea in spagnolo e l'apertura americana in spagnolo in martedì faremo l'apertura europea e l'americana in italiano e i mercoledì la faremo in inglese allora non è che significa che è la lingua principale chiuderò quei giorni però se siete per esempio nel lunedì e mi state guardando anche in spagnolo perché mi interessa vedere le operazioni che apro dove entro e ci avete qualche domanda me la potete anche fare lì tranquillamente io vi risponderò nella vostra lingua in italiano in questo caso poi la rispiegherò in spagnolo così tutti la capiscono quello è il buono di poter parlare tante lingue perciò non vi preoccupate che potete vederlo anche gli altri giorni nell'altra lingua parlerò direttamente in spagnolo lunedì e mercoledì in inglese però penso che lo proverò a spiegare piano piano che si possa almeno capire o intravedere cosa sto facendo se è qualcosa molto importante lo dirò in tutte e tre le lingue automaticamente la nostra operativa la faremo in itoro e in metatrade 4 in un piccolo conto che abbiamo lì sarà day trading e anche swing trading dove si può uno andare a susscriversi alla trading floor? basta che vada uno dove c'è scritto trading floor qua sotto la nostra pagina web di lionbullacademy.com c'è scritto sotto del tutto trading floor paypal subscription schiacciate lì andate su paypal e già vi siete susscritti 3 euro al mese potete toglierlo quando vi pare a voi penso che sia interessante la verità dopo nella trading floor nella sezione dove condivideremo tutte le cose sarebbe nel google drive avremo un archivio dove ci saranno tutti i libri poi ci saranno un altro i libri ci saranno in tre lingue tranquilli quelli che ho in spagnolo saranno in spagnolo quelli che ho in italiano saranno in italiano e quelli che ho in inglese saranno in inglese ne ho tanti più in inglese che nell'altra lingua però li lascio tutti lì qualcuno li può sempre utilizzare indicatori condividerò tutti gli indicatori che ho e quelli che ho trovato anche per internet magazine, riviste ci saranno le riviste che ho trovato anche per internet per poterli leggere anche il wall street tutto quello che trovo le metterò lì così potete anche voi leggerle e ci sarà anche la rivista che sto finendo di Lion Bull Academy come sapete la prima era uscito gli altri due numeri sono già pronti si può dire però non li ho ancora usciti fuori poi ci saranno un po' di materiale che lì ci saranno tanti pdf che io creerò ogni volta per spiegare bene le strategie indicatori tutto lì bene spiegato in pdf che poi quei tdf sono quelli che vado a raccogliere e creare i libri poi promozioni e se trovo qualche bella promozione da regalarvi la metterò lì dentro come vedete non è che c'è tanto da dire penso che sia semplice sono sicuro che sarà di interesse per tutti le mattine faremo tutte le operative che facciamo anche con il coffee box utilizzeremo utilizzeremo l'rmo il vcn utilizzeremo tanti di lì poi vi farò vedere un po' di più della piattaforma e tutto e sto ancora creandola va bene per adesso questo è quasi tutto vuoto però piano piano fino al giorno 15 che ho pensato già di promuoverla 100% a vedere se qualcuno si soscrive già ci sarà più materiale dentro però piano piano starà crescendo questa è una comunità che andrà sempre a crescere questa è la versione online poi nel futuro faremo quella in vivo in persona come avevamo detto il nostro sogno di farci la nostra trading floor in persona però quello sarà più avanti per adesso cominciamo questa online e come vedete sto già lavorando dal primo giorno e per me non c'è pausa spero veramente che vi aiuti e dai ragazzi passate un buon anno divertitevi con la famiglia e ci vediamo dopo dai ciao ragazzi